Il Presidente Attilio Fontana e l'Assessore all'UFG Giulio Gallera ci hanno comunicato di essere stati individuati e scelti come struttura di riferimento per gestire l'ospedale che sta nascendo proprio in questi giorni all'interno della Fiera di Milano nei locali messi a disposizione di Fondazione Fiera. Noi siamo fieri, consentitemi questo passaggio di questa scelta e ne siamo orgogliosi, metteremo a disposizione la nostra esperienza e tutto quello che abbiamo costruito in queste tre settimane di duro e intenso lavoro di riorganizzazione, lo metteremo e lo mettiamo a disposizione volentieri del sistema. Questo diventerà un altro pezzo di policlinico che si aggiunge alla nostra organizzazione e quindi lo gestiremo nel miglior modo possibile utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione perché stiamo parlando di salvare la vita di centinaia di persone che hanno bisogno di un livello assistenziale molto elevato dal punto di vista quantitativo ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. I nostri medici, i nostri infermieri che in quota parte lavoreranno all'interno della struttura, svolgeranno una funzione di formazione nei confronti delle persone che arriveranno presumibilmente su base volontaria e che verranno posti all'interno di questa struttura per assistere centinaia di pazienti in ambito intensivistico. Quindi è una sfida che si aggiunge alla sfida che noi abbiamo chiaramente raccolto con grande entusiasmo e nella quale cercheremo di fare del nostro meglio perché comunque l'obiettivo è quello di assistere le più persone possibili e nel miglior modo possibile. Quindi io ringrazio davvero il Presidente e l'Assessore di aver pensato a noi per questa cosa e cercheremo davvero di mettercela tutta per fare in modo che sia una cosa che si aggiunge alle tante cose già fatte per curare i cittadini italiani, lombardi e italiani.